oh per... aaaaah per... andiamo al verde dai andiamo al verde e qua sicuramente e... ma c'è oh e mi sparano al volo ma vedo rotti coglio era affanculo a costo mi fa adesso mi fa al volo ha rotto i coglio ma vaffanculo a tua madre con la puttana mi ha rotto i coglioni da quando mi sono lanciato mi dissocio mi dissocio altamente ma vaffancapa ma certi sono facciamo un sondaggio così raga quante kill jack norris in questa partita 25 oh mio dio ma porco cane un orgia era un orgia era ma che mamma mia mamma mia che cazzo no cazzo mi hanno visto me ne vado me ne vado mi conviene andare lungo destra sempre aspetta che lo vedo dove stanno ma c'è l'elicottero pure porca troia questo mo li resta non fa niente fa niente mi nascondo dietro qua ai 11 vite qui buttate porco cane è impossibile oh oh mettiti al centro porco maiale da solo si abbazza ecco la finestra una finestra a terra nella finestra no davanti a te quanti ne mancano 1 1 1 1 v 1 si avanti a testa un bel se ti butti giù mi puoi prendere bravo 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 uuuuuh mamma che classe di merda che ho usato un chilo eee meh non fanno poco danno dai bella win bella win mamma madonna di cristo sono due team sono due team sono due team sono due team no nel no 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 che cazzo facendo ma perché faccio queste minchiate maledette un tetto è tiro non ci credo dai sei inutile una terra due a terra oh l'altro l'altro sta l'altro sta sono arrestati morti morti oh un altro da dove non lo so qualcuno sta io 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 non ci credo no da dove da dove ma vedi che culo giusto quando stavo per scappare è uscito ma c'è l'era successo se venire o no no non vengo non vengo non vengo la porta dietro attenzione mamma mia e l'abbiamo rubisciata e l'abbiamo rubisciata via la palla ho ballato male via la palla attenzione mamma mia mamma mia cosa è successo che ruba ruba che ruba spagnolo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti